Una inspiegabile fuoriuscita di strada e un'altra giovane vita spezzata sull'asfalto. Finito con la sua moto contro il capitello della Dolorata in via Bellini a Villa Bartolomea, è morto ieri sera intorno alle 19 Francesco Prandini, 22 anni, residente nel paese della Bassa. A bordo della sua Honda 600 stava percorrendo la strada che porta dal centro di Villa Bartolomea a Vigo, frazione di Legnago. Per cause che i carabinieri dovranno accertare, ha perso il controllo del mezzo, sbattendo contro le colonne del capitello. Nell'urto la Honda è finita al centro della careggiata, mentre il giovane ha riportato traumi gravissimi, tanto che il personale medico del 118, arrivato con un'ambulanza dal vicino pronto soccorso di Legnago e con l'elicottero di Verona Emergenza, ha cercato inutilmente di rianimarlo. Francesco Prandini era molto conosciuto a Villa Bartolomea, dove la famiglia gestisce la storica trattoria da Battista, un ragazzo estroverso e intraprendente, noto tra i coetanei anche per l'attività di PR per feste e locali pubblici. In molti, appena si è sparsa la voce, sono accorsi in lacrime sul luogo dell'incidente. Da sempre appassionato di moto, aveva da poco coronato il suo sogno con l'acquisto della Honda 600, con la quale si stava preparando all'esame di guida, per questo circolava regolarmente con il foglio rosa. Durante gli studi conclusi lo scorso anno, viveva tra Villa Bartolomea e Poggio Rusco, il paese mantovano dove risiede il padre, per questo aveva frequentato le superiori al Galileo Galilei di Mirandola. Il tantam sui social ha seminato il dolore tra i numerosi amici e conoscenti del 22enne, tra le province di Verona, Mantova e Modena.